ragazzi date il bentornato sul canale al mitico inevitabile david john let's go allora e io direi di partire subito con il mio profilo ti faccio vedere il mio profilo mi dici cosa ne pensi prima foto seconda foto terza foto e quarta foto a questo è troppo distante però in questo sembra un po più alto io no io ti dico approvo la prima e basta perché se vede di proprio te capito è bello il bosco verticale dietro una bella marcia questa perché se vede di te vedi proprio te ci sta ci sta ho fatto un nuovo match 24 anni geometra a milano ma questo è uguale a te vedi foto da guarda anche come sono io e dimmi se effettivamente troppo troppo poco mi posso accontentare di meglio dimmi te la zi nella vita non bisogna mai accontentarsi non è guarda come sono io ma che for di te devi punta sempre in alto no always cioè se non ti piace e ti devi accontentare no onestamente lo dico anch'io la schifo non la metto io la schifo non la metto non la metto hai ragione ti chiedo scusa ti chiedo scusa ti chiedo scusa altro match giulia vabbè questa è una bella ragazzetta quando ho fatto un match con questo e scrive cerco gente curiosa che abbia voglia di lanciarsi in qualcosa di nuovo ma che lei sta no 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 aspetta questa ci vende i corsi no questa ci vende i corsi ma se ribaltiamo tutto e la invitiamo noi al nostro corso leggendo la bio ti reputo perfetta per il mio corso di network marketing sapere se sei interessata outplayata se ti scrive sì è top se ti scrive sì io creo adesso una società di network marketing corso io docente presidente sio e professore lei l'unica che fa proprio qualche comparsa chiara 21 anni da milano like frate bella proprio belle poppe degli occhi dei capelli belle lentigini bel viso fra del viso sì sì bello tutto se non non si può solo la ragazza chiara like passo l'avevisto le foglie dell'imperatore cusco lei vista vivo il polino dove cazzo c'è finita lì col cavallo quando lo so andato a un bagno col cavallo sono la modella conosco il ferro non fake 568 stain to discover milan alone c'hai capito raga stain to discover milan facciamo così facciamo così io metto like e vediamo se sarà la mia tredicesima ragione no no ah sì e kira sì 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 qui per relazione seria la parentesi qui per far dei follower su instagram ma vaffanculo no via a issa ma perché perché non lo so non mi fa impazzizzi io ho dei gusti particolari ma c'entra il fatto qualche sua caratteristica particolare silvia 24 e c'è lo sguardo un po assassino fra c'è guarda c'è immagine tu ti svegli davanti a questo sguardo aspetta veglia te all'improvviso c'è credito che se ci fai frene zi in camera mia è una cosa assurda dieci punti in più se indovini di dove sono cazzo dove no amo a lo so io di casa mia elisabetta diamo elisabetta è carina lei c'ha proprio proprio anche io ce l'ho fatto al nameless e ti dico onestamente onestamente mi farei calpestare dai elisabetta io ma quant'è arta fra no sono le porte basse dici pure secondo me carlo è sì like l'orella 22 anni mozzichino glielo darei però non non me fa un pazzino io fra vedo molto il viso ti dico la verità ma a parte tutte le mie cose e sine coi però a me se il viso mi piace allora se ma voglio bomba e basta se c'è deve essere una bombata vabbè fa così però se mi deve proprio piacere attirato deve essere il viso e vabbè poi tutto il resto chiara se si lo sei io se sei sopra il metro 90 schipperai solo questa cosa si proprio testa di no joy cioè se sei sopra il metro oh è più alta della metro chat no fra a me mi farebbe riva io lo sai che farei farei match e poi ti presenti ma un dinosaurio no raga no non mi piace eh martina allora quale speri che sia martina tra le due eh a sto punto quella davanti a parte pareccia a 14 anni fra ma vuole 20 anni era quella davanti era quella davanti no è proprio ma non si reaccia comunque no neanche a me piace eh lucrezia 20 anni no non mi piace basta abbiamo capito che c'è sto cazzo di piercing alla mano eh volevo far vedere chiara oh eh ho chiara c'è qualche beh bella ragazza zi ma zio ma no ma raga ma questo penso sia un fotomontaggio è impossibile che sia così alto è un cavallo si è un'autostrada no ok che esistono i tacchi raga però questo qua è il ginocchio raga questo è il ginocchio raga prospettiva a te sconosciuta ah mio mamma 28900 sono uno sfigato coglione stefania lecco anch'io eh meno male no che vive lecco david però c'è qualcosa che non mi convince no allora non ci convincerà si comunque è vero zio stanno beccando letteralmente solo modelle si a milano è così a roma no a roma veramente solo mi sembra mai col jackson fratelli fratelli è letteralmente zano mi piace mi piace like cioè zio ma sai cos'è la cosa che non c'è una via di mezzo non c'è una via di mezzo stiamo passando da ragazze no a ragazze troppo troppo non c'è una via di mezzo capito la cerco subito su instagram e niente eh ah brate madonna si zio quanto quanto bella zio zio domanda tutti i soldi che hai te glieli daresti faresti follie per lei no però la mia la follie non dare porco chiedo vediamo la descrizione però vai hai peccato in 4k a devi giocare peccato in 4k e francesca 26 minchia zio è alta 30 centimetri in più della smart io la smart mi hai messo secondo me ho messo un'opzione ho il filtro solo per le ragazze alte si oh david io la tinderat dislike facendo questo david facendo questo david e bisogna tirare bisogna tirare la rete bisogna tirare ma c'era una scena anche di mezzo vabbè bisogna tirare la rete oh si ma hai mai fatto quella quella sorpresa ma non te l'ho fatta io te l'ha fatta lei lui lei eh david ti ringrazio per questa ospitata ti mando un grosso bacio mi fa molto piacere e ci vediamo in live un bacione dai ciao 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 ciao